Ciao sono Magnus e ritorniamo sempre qui su Resident Evil 5. Noto se avrei notato anche uno nell'ultima scena e nell'ultimo episodio, c'era qualche somiglianza con Joker, non so se è il trasporto, però quando ho alzato le mani e ho urlato, a me sembrava Joker. Oh, ah, c'è un sacco. Fuga su imbarcazione Ok, allora, questo è andato Allora, è tipo Ti dovessi spostare, se no ti spari in testa Allora, mi viene un dubbio, nel senso Spero che tu mi... Eh, capito, questo era il dubbio Ok, sparo, scusami Ma mi finiano tutti i colpi? Vediamo di... Vabbè, è breve, dai, siamo arrivati Ma che possiamo fare? Non c'ho munizioni, non c'ho niente Ah, forse adesso possiamo Recuperare qualcosa Ma sento dei rumori strani Ecco, appunto Grazie Ah, ecco quali sono i rumori strani Vorrei evitare un po' di sparare Ecco, appunto Madonna santa, ci gira proprio male Ho visto un pulsantino là Magari serve Dunque, cos'è qua? Evita, evita, evita Vai, vai, vai Che c'è qualcosa qua? Allora, sulla barca un'altra volta E non lo scusa Start lo schifone Allora, facciamo così E lo so Vai Ma non è molto forte, insomma Aiuto Basta Vediamo un po', ci andiamo Pesa munizioni, pesa munizioni Ma che consegna? Andiamo, 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 andiamo Basta, abbiamo già dato troppo Secondo me Purtroppo il manganello è l'unica cosa che ci può servire Allora, andiamo Ma perché c'ho la mina? Eh, qui No, no, abbassate Allora, non ho usato il manganello Attenzione Eh, lo so, ma vediamo che se la fortuna ci assiste Dai, non sprechiamo colpi inutili Ecco, appunto Che bella mira che abbiamo Grazie Faccio tipo scudo umano, ok? Va a lanciare, va a lanciare Eh, ti ho detto, va a lanciare Ma Grazie Oh, ho visto la piantina Va, ho visto la piantina E vai, e vai, e vai Eh, non so che l'oro è importante Allora, in questo momento forse Mi occorrerebbe altro No, quindi Attenzione a quello Non posso avviare erba, ma veramente Allora, ti do Consiglio Vediamo l'erba e andiamo Aspetta, qua ci sta qualcosa forse No Ma dove devo andare? Ah, di là devo andare Questa non si aprirà mai No, non si aprirà Perché ci sta sparando Tremendamente Non ci sia Aspetta un attimo Perché non ho capito La dinamica La dinamica Non ho capito Ma che sta sparando male È morto Bastardo schifoso Quanti ce ne stanno Di sicuro Io pensavo che andando sopra L'avremmo eliminato Aspetta che arrivo Non ci facciamo fregare Questo Questo è un bobbiretto Vai Bravo E decidi Non la posso usare E sta mitagliatrice Scusate Ok E chi sparo Aspetta un attimo Ok Questo lo becco È stata una buona idea E vai Ok Chi è che sta sparando ancora? Ok C'è qualcuno Ah ci sta ancora anche tu Tutti morti Penso Vero sì Là c'è da qualcosa Dai Un momento Non c'è più munizioni Veramente Allora facciamo così Combino Ok E andiamo Ma come sei messa tu Con le munizioni Questa non c'ha munizioni Secondo me Munizioni pistola Glielo do E dai Almeno spari pure tu Da riandare Dall'altra parte E poi ci sta Un sacco di roba Però Non c'è niente Allora Andiamo ad aprire Il portellone Vai Vai Ah in due Dobbiamo farlo Dovete andare Oh no Ce ne andiamo Ce ne andiamo Eri tu Forse Che sparava Ok Ce l'abbiamo fatta Oh shit They're gonna sink us We've got to do something We've got to do something Ma come è strana questa scena Sembra molto più cartonata We've got to get aboard that shit We've got to get aboard that shit We've got to get aboard that shit Hold on Get rid of it Come on What are you going to do about them? You're just one of Excella's playthings It was your master One more time What are you going to do about this here? Oh right I'll pay you to it What is it? This Won't you two just die already? You're making me look bad Who do you think got this entire operation off the ground? Research like this doesn't pump itself, you know Yet everyone looks down on me But not anymore Don't do it Oh shit Oh shit No shit No shit Diventi una bella donna O mi diventi Joker veramente No 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 Sembra una bella donna E' diventato una viola Sai che puzza Ah shit I just had an extreme makeover Ah No 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 , no What the hell Is that thing just get out of here Just get out of here Too dangerous Alright just We'll try to stop it But We'll Das is going home grosse Game Yes What punch non so che vuoi girare però forza si ma se mo se perdiamo pure tempo per sparare ah ma questo è diverso questo è meglio ogni arma è differente e dai ma che fa te lo vieni tu mi raccomando spara bene non è molto intelligente ah vedi e se l'avessimo fatto prima sta cosa non sa perché prima non lo faceva guarda eh no eh curati dove vai? eccomo qua oh voglio cambiare aspetta vai via di l'altra vai 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 a sparare all'altra parte stai andando perché non va all'altra parte madonna una salta ok devo sparare i bracci ok i bracci mi fai compagnia io sparo e ti mi fai compagnia vabbè occhio mi riferisco a usare questa per queste cose quante volte quante volte mi arrivo a scassare queste cose ho schivato ho schivato occhio becchiato becchiato vero? dove stai? è morto? eh che ti sposti forse lo becchiamo ok eh ce lo siamo schianzati per pochissimo non arriva più è chiuso ancora e tu non mi scrivi perché questa non spara dai è che chiaro non spatterà mai sì 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 è morto? oh ma ma gli ricrescono il continuazione si vuole arrivo eh tranquilla tranquilla Ma dai Cacchia A Gesù A Gesù Mi stai sulle palle Mi toglie dalle palle Facciamo così Voglio soltanto a lui Poi eventualmente Mi sposto ok E dai Ma però così non vale E non schivo Ma non schiva più Perché non schiva più E fammi sentire un po' meglio Vediamo se facciamo Sto più forti Ok Da sub Da questa cosa Che non riusciamo A pulcare niente Ok 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 E vai Poi doversti morire Fidio mio Ok Ok Sì, che ti stai pensando? Sì, Accela! Credo che non sia una buona cosa. Accela? Cosa è questa facility? Scrivi! Cosa è il progetto Uroboros? Ma hai detto che... Wow, tu stoi all'imprimando tutto, non? Il equilibrio del olio è cambiato e sei completamente obliquo a questo. Cosa sta cambiando? Cosa stai parlando? È il progetto Uroboros? È quello? Nessuno può farlo. Uroboros sta cambiando tutto ciò che abbiamo avuto. Chris! Chris? Si è Chris. Cosa è vero? Come sai di me? Alla sua risposta è la forma di andare, Chris. In quella cava. Se potessi vivere tanto per farlo... ...dia non è così male. Ma non può cambiare nulla. Hai ancora scurito! Cosa stai parlando? Chris! Pagano. Pagano. Ora cosa? Continuiamo. Punti A! Quindi è andato bene. Io pensavo di essere andato abbastanza malino, perché ci abbiamo messo in sacco di idee come farlo a sto livello. Invece niente. Vabbè, è stato abbastanza articolato e divertente. Ci vediamo al prossimo video. Vai! 評 stiamo. Pagano. Per toen i luisti, Grazie a tutti.